per bene, giocano a due i Baltici, attacca bene, bellissimo il sottovalo di Mancina ma arriva un po' corto sul primo ferro si proprio nella penetrazione gli manca poi lo spin, quello che non manca sono l'accoppiata che deve dare qualcosa in più a Varese e poi tutti gli altri a dargli dietro bellissima giocata di Malcom, fa benissimo lui a rimbalzo e segna con un tiro morbidissimo che tiene Varese ancora meno 3, quinto punto per Giovanni De Nicolao, ora Wright sfrutta quel blocco, alza per Malcom è marcato da Kane, si butta indietro con lo step laterale, non va, ancora un rimbalzo questa volta la palla, la prende Sanders e si, e si era... è terribile di questo campionato che però non si è fatta mancare niente tra finale di Supercoppa, di Coppa Italia e ora sogna anche i playoff, altra palla recuperata, Dom da 3 punti per azzannare si, Dom si dimentica, si addormenta un pochino a fare il tagliafuori su Reyes che proprio ringrazia e va a inchiodare quel pallone e Dom dall'altra... molto meglio, insomma 61% va proprio a aprire ancora di più questo divario qui intanto primo tiro del quarto periodo sbagliato da Feioi, ma riapertura per Dom e Mike Dom che ha già superato abbondantemente il suo massimo in questo campionato che era di 18 punti è arrivato a 22 e quindi miglior prova stagionale di Dom che si prende un'altra tripla, ne ha già messo 5! non possono permettere di lasciargli così troppo spazio soprattutto se vogliono riprendere seriamente questa partita qui si esagera un po' nel cercarlo però si fa largo, va con la mano a sinistra, sbaglia ed è ad altri 14 secondi per andare a cercare un altro canestro rimessa per Dom, poi Chris Wright in punta, aspetta l'uscita di Feioi bel movimento ad aprirsi di Dom che prende un altro tiro da 3 punti, si mostra i muscoli e va a segnare Varese di nuovo a meno 2 con un gioiello di Justin Reyes che arriva in doppia cifra 5 su 5 da 2, molto preciso, praticamente perfetto appunto Justin Reyes dall'altra parte il pick and roll con Wright che vuole attaccare scarica per Dom!